La loro speranza è piena di immortalità, in cambio di una breve... Il nostro aspetto nei suoi confronti è grande, è stato grande. Sono un portavoce, diciamo, di tutto ciò che uno di voi qui in questo momento ha il cuore e vorrebbe dire importante che cosa senta a Roberto. Roberto e Sera Valle sono un corso fin da piccolo e in realtà, anche in fondo, ha donato tutto a se stesso per questo bello. E per qualsiasi necessità, a volte anche difficoltà, le parole non ha sempre, non si può, ci penso in alcuni giorni, ha sempre rialzato la difficoltà, come sempre, a volte per la parola, ma che l'aveva contraddistinto, l'aveva fatto diventare, abbiamo noi un pollo di assoluto.